Ci sono i demoni, i murloc, bestie non morti, però ragazzi bestie non morti rendono pure Paolo scarso Quindi è Jaraxxus Quando le stats piramatta è più forte di Jaraxxus però, perché HP fa qualcosa Io prendo Jaraxxus, di su 9 armor Vai, Jaraxxus, forza Sempre questo Cioè, fa schifo, cioè perché costa 1 Per effetto di goof è comunque più forte di far mangiare un demone Forse perché ha il rank bassi gli eroi che hanno mediamente la monotriber performano un po' meglio Appena è arrivato e vedo Jaraxxus, siamo masochisti Chi com'è? Vedrai che faremo un verdone Vediamo quanto state bettando su Jaraxxus Mmm, non lo state prestando molto, eh Vedo 30% su 4,8 Allora Vabbè, si sale Andando si gioca tutto con la quest Magari considera che se baffi la taverna fai un botto di stats Sì dai, fai un po' di stats però Cioè, quando mai baffi la taverna E ti serve avere qualcosa Con cui mangiare Considera che la quest che ti fa mangiare a fine turno È tipo una delle quest più scarse del gioco Quindi l'HP che fa lo stesso effetto ma su un pezzo solo E spendi pure un gold Eeeh, mi veniva da dire che forse non è così tanto forte Esatto, è un pezzo a carne con 11 di vita in meno Grazie mille a Jetrix Grazie al secondo me di Prime Thank you Allora, in teoria 1-1-1-4 È meglio di laso random qua Secondo me Perché posso prendere il secondo non morto E baffare l'attacco Se no facciamo il segnetto a bigolo E sbigoliamo Dai sbigoliamo Cioè, sbigoliamo Teniamo in mano tutto Ragazzi, qualcuno di voi Se ne intende di stampante 3D? C'è qualcuno in chat? Cioè, avete mai fatto stampe 3D? Circa, ne ho alcuni lavoro Io ho la 4D Io ne ho due di stampanti Secondo voi quanto è complesso stampare Dai, gioca Non morto Gioca Qua giochi di battaglia E ci dà pure il via elementale Possiamo scombare con la quest Incredibile Ah, vabbè, questa qua Cerchiamo Rilac Cioè, via elementale che scombare con l'HP Incredibile, ragazzi Dai Cosa possiamo chiedere di più? Facciamo questo Che composto le grid di battaglia Tutto pianificato, ovvio Comunque Dobbiamo stampare una specie di quadrato Cioè, una piramide tipo Di 25 centimetri Con uno spessore Di mezzo centimetro Ma si può fare anche un pochino più sottile Ok Stampare un oggetto del genere Con una stampante 3D È fattibile o costa un botto? Mi conviene usare altri strumenti Questa è la domanda Ma perché non dovrebbe essere fattibile La vera domanda Allora, adesso io vi dico, ragazzi Oggi ho chiesto a una stamperia 3D E mi hanno fatto il preventivo Una stampa di questo tipo Provate a dire quanti soldi mi hanno chiesto Per un Per un Questo oggetto che vi ho appena descritto Comunque incredibile avere 0 Cioè, 0% di win rate A questo turno con uno start del genere Con anche materiale Plastica Boh, c'è solo un materiale, penso, no? Ridescrivimelo Ah, adesso diritto alle orecchie Allora, praticamente Una specie di piramide Comunque si prende A giocare di Battlecry Quindi top sarebbe fare questo E provare a zeccare la naga Perché questo è giallo Skill based Allora Dicevo Dicevo, dicevo, dicevo Una specie di piramide Di 25 cm Per 25 25 x 25 Con un diametro Con uno spessore Non diamo Con uno spessore Di circa mezzo centimetro Materiale Il più economico che c'è Provate a dire quanti soldi Mi hanno chiesto Per una stampa di questo tipo Col modello Escluso Cioè che Facciamo noi 15k Sì, vabbè Cos'è, è un oro massiccio Magari, come fa a costare 15k? Dai Comunque mi hanno chiesto 260 euro 260 euro Eh, infatti Mi sembra un po' tantino Costa una stampante 3D Così, cioè Passavano i rasoni Se hai spiegato a loro Come hai spiegato a noi Ci sta Haha Allora La richiesta era Eeeh No, gli ho mandato pure Gli ho mandato pure il modello Quindi più preciso di così Gli ho mandato pure il modello Allora ragazzi Qua bisogna livellare E bisogna C'è Carrilec Il 4-2 È forte Il 4-2 è forte Però secondo me Non è rilevante Io qua li livellerei E farei Questo Poi venderei E si può valutare Di fare pure HP Però non so se voglio fare HP Però voglio salire Sono certo che voglio salire Allora un HP ragazzi Può dare Un più 7 È forte Il 7 quadro sul 3-1 Può spostare Però avendo un 4-4 Per dare il più 7-4 Non ha senso Non ha senso farlo adesso Allora mostro l'oggetto Allora vi faccio vedere Vi faccio vedere il video Allora Piccolo stop Solo per ricordarvi Che se il video vi sta piacendo Potete iscrivervi al canale Cliccando Iscriviti qua sotto E se volete ricevere le notifiche Per i prossimi video Potete abilitarle Cliccando sulla campanellina Eccolo Chiaramente Non vi ho detto Che dentro è vuoto Non è Non è così Non è proprio una piramide È un quadrato Con sotto un trapezio Però ragazzi Che cambia Ok Cioè nel senso Ai fini Del capire Quanto potesse costare Ok Cioè Cambia Non è che cambia molto Non ho le due geometrie Ma allora A parte che dipende Da che posizione La mettete Ragazzi Per voi la piramide È Precisa No Allora Li vale 260 Ok La piramide E la piramide Invece Non li vale Ok Questo sì Cambia che per essere stampata Quelli che avevano i supporti Devono essere poi rimossi Qualcosa sta a una piramide Come Titus Stavran Dai Allora Cerchiamo sto Rilac Altro di questo Questo non ha senso Anche a forzare Rilac Non è che sia proprio Una grande cosa Però se anche trovo Il Murloc 3-2 Mi sta bene Questo qua Che ammazza l'1-2 Costa 2 Guadagniamo un oro Però non ci sta Roll Quindi si fa demoni Mi faceva la tripla No Mi serveva due Da spaccare Lasciamo stare il resto Cioè Per quanto sia forte Sono forti questi qui A questo punto rogliamo Oppure lui mi ha dato Che festa Questo potrò darmi la tripla Ma bene così C'hiamo demoni Va bene ragazzi Non era una piramide Va bene Scusate Non era una piramide Volevo semplificare Anziché dirvi Eh beh È un rettangolo Dove la base È a un buco Ed è fatta da un trapezio Nel buco Ci andiamo a incastrare Un circuito di Arduino Ok Perché è questo che faremo Quando andremo alla fiera Al TwitchCon Ci serve Praticamente Avremo il nostro tabellone Sarà il tabellone Quei buchi Non so se l'avete visto Quando avevo fatto la foto Su Instagram Ma in questi buchi Dovremmo mettere Queste specie di scatole E la pallina Entra nella scatola Entra Dentro questa scatola In fondo Ci sta un buco Nel buco Ci sta Un sensore Fatto con Arduino E questo sensore Percepisce Che è passata la pallina Collegato a un'app Che fa aumentare Il punteggio Di chi sta giocando Ok Anziché dirvi Tutto questo Vi ho detto Che era una piramide Ok Quindi è una piramide Il problema ragazzi Che noi Non dobbiamo prendere Tra l'altro qua Aspetta Fermi tutti Adesso noi ci servirebbe Il drago Il drago che mangia Oppure un altro Avile elementale Ha mai senso Livellare Per cercare Barone Barra branne Ma mai senso Evolvere Qualcosa bisognerà Comprare Vendere sta merda No Il 18 Si può prendere Adesso Tazzone Tazzone Che da un sacco Di stats Si prenderà Penso di prendere Solo tazzo E rollo Questo non è male Dal momento che è gratuito In caso Si potenzia Però non lo prenderei Secondo Rila Kim Nuts Allora Via questa Via questa Via questo Via questo Anche a me non piaceva Eccoti una moneta d'oro Per il disturbo Assolda pure Una di queste reclute Queste vanno via Anche a me non piaceva Eccoti una moneta d'oro Per il disturbo Penso di rollare qua Non voglio comprare Nuno di tutti Questi qua Quello è buono Ed aveva messa la tazza Prima di collezionista Di gufi Va bene Turn è forte Dio sei forte Allora Adesso Credo si possa Anche livellare Ciao turn è da un po' Che sono fuori da bg Come sto meta ancora stat super giga enormi Con le quest In generale ti direi di sì Anche stat super giga enormi È un po' generico In generale il bg è fatto così Dai Ma qualche tubo idraulico in plastica No La forma la ricordate un po' Cioè Considerate che noi siamo Tutti formati Quindi siamo un po' Negati su ste cose Stiamo cercando di trovare Una sulla soluzione migliore possibile O comunque la build era così Secondo me Si può anche livellare Con sta roba Cioè A me non posso trovare anche Urzu Trovo Baron E un altro Reborn Il Mega Nuts Quindi vendo 9-8 E compro tutte e due Dio Che partita Che game abbiamo tirato fuori Qua con Con Jalax È questa roba forte Pazzesco HP per tazza In realtà Perfisco stare così Perché se faccio HP Ho un pezzo in meno E quindi Dopo c'è il rischio Che Rilac Si schianti male Torna Cioè 260 sono tanti Per carità Però fidi che Tra quelle È una piramide A base quadrata Ci sono giusto Due o tre gradi Di difficoltà in più A farlo stare in piedi E non farlo collassare Ok Va bene Ci sta Inverti Rilac Boh Perché Che cambia Cioè vogliamo mettere Il più piccolo davanti In teoria è meglio Il grande davanti No? Fa due colpi Comunque ragazzi Cioè 260 è troppo Che lavoro fai? Lo streamer E altro Sono due lavori in realtà Cioè streamo La sera Siccome in solito Streaming dura 4 ore Il pomeriggio Faccio Con un socio Delle estensioni Twitch Che sono tra l'altro Attive anche su sto canale Che sono Viewver Attack E Live Bingo Sono nostre creazioni Questo ci batte Sono molto curioso Di scoprire Quando saranno grandi Le nage Che ci aspettano Cioè Le nage I pezzi Che ci aspettano Non so se ha senso salire Per il pipì Eh wow Cosa mi da Bob qui Transizione Transizione Murloc Con due Rilac E' da pazzi Teoricamente Si può fare Però Cioè una volta Che parti con sta beat qua Lasciamolo stare dai Ora si Che si ragiona E se escono Solo Murloc 3-2 Porca miseria Che cazzo Solo Murloc 3-2 Ok Madonna Santa Ok Va bene Faccio Murloc Bob Hai vinto tu Che ti devo dire Anche a me non piacere Eccoti una moneta d'oro Per il disturbo Che ti devo dire Ragazzi Ho un ultimo roll Non meno che non vogliamo Prendere uno di questi E fare HP Come il coiler Anche a me non piaceva Eccoti una moneta d'oro Per il disturbo Che va a primo Non dirlo agli altri Ma faccio il tifo per te E per me è che muro Consattiva qua Che mi è morto Quell'altro Ma che sfigato Sto trading Mio Qua Abbiamo una spe Prima di consolazione Sì è una merda Sto roba Murloc È una merda L'ho preso Perché il Murloc 3-2 Era gratis E questo qua Mi è uscito dal nulla Cioè da tipa di Rilax Però se no Non l'avrei mai preso Prendo il Vilcinghiale Questo è fortissimo Il vero potere è il mio Pipistrello e Ursula Dio Ok Va a fare un culo di Murloc Allora Facciamo full demoni Prendiamo Ursula e Pipi Ursula e Pipi La spell Per far attivare Le lacche di più Ci può stare Se la facciamo Prenderla E sarebbe Via 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 Boh Non so quanto sposti La spell Cioè fa mangiare Con lui Però effettivamente Boh È più forte fare HP role Basta Mangio sull'Urzul Comunque è sempre Demoni ragazzi Qua adesso Perché non ci sono I vero spini Elemental Quindi se mangio Tutto su Urzul Non si perde mai Illegale sta roba Illegale Ninja 4 Possiamo far saltare anche Barone Tra un po' In realtà Però insomma È ancora figa Il Barone Allora lui ha Bestie Pirati non ci sono Quindi il Barone va dietro Così in teoria Il problema è che secondo me Rilak non me lo ammazza mai Questo Vediamo Che serve questo Dai forse me lo ammazza Questo La può fare Ok bravo Perfetto Olè Festa grande ragazzi Facciamo demoni con Jaraxus Perfetti C'è stato una piccola Momento di debolette A cui sembrava che Dovevessimo Rinunciare Ai demoni Però In realtà È stato un semplice Monoturno Che secondo me ci stava Perché alla fine Perché alla fine Cioè Moon è arrivato gratis E l'altro era gratis Ad acquistare Quindi ci stava Lui ha avuto sfortuna Perché in realtà La B della palletta Cioè In realtà Lui ha messo L'alfiere Che non serviva Assolutamente a niente E probabilmente Se avessero più forte Se avessero Tantato qualcos'altro Ma per il resto Ha sfigato A beccare A beccare demoni Così enormi E guardate che roba qui E adesso Le spell Queste qua Magari no Però Ci sta a tirarle Tipo questa Che da gold Ci può stare Questa anche Questa anche Quindi probabilmente Era da mettere Due demoni E basta Più che comprare Le spell E questa adesso Con Rillac Se si triggera bene Raddoppia tutto Quindi è figo Però Poi basta Cioè poi bisogna Solo mettere demoni E basta Cioè Avendo quel print Venderò questo Venderò barone Metterò due demoni E poi lasciamo fare Cioè Possiamo anche andare via Poi dopo Prendiamo gli scudi divini Nel spell costa un poco Se poteva prendere il fiere Sì Probabilmente ci stava Facciamo la stessa cosa di spell Probabilmente ci stava Sì Prima di iniziare a fare le spell a caso Però invece sì I cinghiali dovrebbero essere due O comunque bisogna prendere solo le spell Tipo Che danno economy Vabbè Comunque ragazzi Cioè Ogni turno Adesso facciamo più 200 Più 200 E non ci sono le streghe Che possono settare Le stazze a 3-3 In realtà Barone si può tenere Per la 11-3 Però non credo che Ci servirà Cioè alla fine La 11-3 Probabilmente va bene Anche senza barone Vabbè Ecco È meglio Mettere due demoni E basta Vedi Lui ci sta provando Oddio Non mi scammare il barone Doveva fare la nostra stessa vida Non è finita bene Vabbè Va pure brambolare Sì Che figata Quante stazze ha fatto Sto vida elementale Morto Incredibile Se sono di 80-80 Allora Dai Prendiamo cosa di forte Non queste Non queste Rulliamo Dracari Oddio Sapete che Dracari Ci può stare Così giochiamo solo Contra demoni Ha senso Così mettiamo Tutte le stazze Su tre pezzi Grazie Thunder Shock Grazie mille Del sesto mese Allora Quindi facciamo saltare Rilla Rilla Che è questo Visto che è turno 13 E probabilmente In due fight La partita è finita Quindi prendiamo questa Se vogliamo mettere Questa anti-scam Contro lui Che sta facendo Murlock Ci può stare Dal momento Che lui Sta facendo Naga Si può fare Un demoni Può fare Un 80-80 Qua a caso Però Il punto è che È meglio Robare Scudo Scudo e Naga Oddio Ho sbagliato Contato male Oddio Contato male Eh vabbè Facciamo così Vado a vendere Il coiler Che poi in realtà Si è anti-scam Il coiler Era fortissimo Prendere a vendere questo Vabbè dai Si dura un po' di più Perché è anche più divertente Ti stanno puntando tutti Fa attenzione Coiler Alla tenere Era fortissimo Ma è che c'è i 2-2 Però si Alla tenere Dio ma proprio Uno scudo E no Cazzo Noo Punitissimo Per quella HP in più Mi sa poi Che finiva così Cazzo Abbiamo messo pure Spell Che era buona Ci scammano Ci scammano Sti maledetti Il drago Si prende Se via quel coiler Era da tenere Cavolo Ho sbagliato Vendere coiler Qua Vabbè Facciamo armor Mi sa che Coller Lo riprendiamo La sua Abilità Nel non farsi Scammare Cazzo Bella questa Tengo in mano Però Ok Ah giusto Mi sono dimenticato Che avevo i grid di battaglia Sto dando volte La naga delle monete Ci stava sempre Era un buff qui È gratis Mi sono dimenticato Di avere Sto a questo attivo Stato bene Un po' Stati C'erano altri Murlocon fiere Si perdeva pure questa Allora Serve il 3-7 Che toglie i scudi Per vincere sto game Mantieni la pressione Io non so se vogliamo prendere L'evocatrice eterna Cioè il 3-7 Che toglie i scudi È forte Però anche lei È buona Anti-scam Cioè il discorso Che magari Magari lei basta Cioè magari Questa ci può stare Probabilmente lei Si prese Si vende Questo e questo Si mette questo Per anti-scam E solo fa Evoca di 4-2 È grossa Questa È uscito lui È uscito lui Che figata Eh però L'ha mandata Lui È un pantone Cosa si fa Qui adesso Togliere taunt A Urzul Si Mi piace Togliere draccare Anche penso ci stia Tanto draccare ormai Cioè i demoni Sono tutti più grossi Quindi i draccare Può tranquillamente saltare Mi piace Il tuo modo di pensare Un burlo che non ne ho Mangiare non morto Non ha senso Vabbè Stealth Stealth su Urzul Ci può stare Zapp Ammazza Non serve a cazzo Un altro Coiler Un altro Compezzo Con the struttle Potrei prendere Anche lui Però C'è di meglio Dai Questo scudo Non ha senso Cazzo Ci sta In realtà Cosa che era Accendere un'altra Buona Vabbè Stesso Ha tolto Tanto Sta Trovo Ah C'è chi in alto Ma ha perso Ragazzi Demoni perfetti Con Jaraxus Ecco a voi La build Perfetta Per Jaraxus Bellissima Questa Questa Ciao youtube Se lo merita Se lo merita In pieno Piramide build Piramide build Lo raccontate In questa partita La cazzata Allora potrebbe Finire il video Ricordiamo i ragazzi Di youtube Iscriversi al canale Lasciate il commentino Vendeteci a trovare Il live su twitch Ogni sera delle 22 Se voglio lasciare Il follow su twitch Per non perdersi Ogni live Ricevere le notifiche Per quando andremo In diretta Quindi ragazzi Potete salutare Vostra madre O voi stessi Che domani O in prossimi giorni Guarderete il video A pranzo Questo è il momento Per farlo